Sono 24, 15 uomini e 9 donne, i livornesi, che in cambio di denaro, tra il 2014 e il 2019, sono convolati a nozze con cittadini stranieri al solo scopo di fare ottenere a questi ultimi il permesso di soggiorno. Coppia di perfetti sconosciuti, secondo la Procura, che per mesi ha portato avanti una maxi-indagine. Nelle ultime ore è scattato il blitz. Cinque misure cautelari e 55 perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nelle province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova. Le ipotesi di reato sono favoreggiamento dell'emigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico e coinvolgono in particolare un 55enne della Repubblica Dominicana, arrestato e in carcere, e quattro livornesi sottoposti all'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Erano loro, gli organizzatori seriali, dei falsi matrimoni. Ignari, i pubblici ufficiali intervenuti nella celebrazione dei 24 falsi matrimoni, 23 in comune a Livorno e uno a Rosignano Marittimo, e nel rilascio dei titoli di soggiorno agli sposini stranieri, tutti provenienti da Sud America e Africa. Gli organizzatori reperivano persone disponibili a sposarsi in cambio di soldi, cercando anche tra i tossicodipendenti. Ogni matrimonio celebrato prevedeva al pagamento tra i 6.000 e gli 8.000 euro da ripartire poi tra il coniuge italiano, l'agente matrimoniale, il dominicano 55enne, e gli altri soggetti che in più occasioni si sono prestati a collaborare per organizzare le nozze combinate.